No, sei bellissima da vicino da lontano grazie happy birthday happy birthday happy birthday ma che bello ma che carina ma che carina ma che carina ma che carina veramente non è stato è stato un minuto ecco perché eri l'unica vestita di verde perché eri lì e rompiva l'aria buongiorno amici gossiponi lo sapete alba parietti è sempre molto impegnata in eventi mondani qui è a ibiza che partecipa a un compleanno